L'educazione è una cosa che non le appartiene. Io non posso accettare che lei dica delle menzogne, io non sto facendo terrorismo, io sto dicendo una verità scomoda per il suo partito, punto. Guardi, lei sta dicendo delle grandi sciocchezze, a me piacerebbe sentire parlare di Bossetti, che a differenza sua è una persona che sta in corsia, che ha curato i dati, che ha rischiato la propria vita. Ma come si fa? Scusi, ma io non riesco a far cadere uno sguardo così in basso. Noi stiamo parlando di medici, di professori che hanno rischiato la vita, non come la signora nei salotti. Io parlavo del dottor Bassetti, che a differenza sua... Non so cosa si sia sentito, ma c'era Bassetti contrariato e un ecumismo. Scusi, era uno scherzo. Era uno scherzo, mi scuso. Ma guardi, io con lei... Bassetti è molto simbato. ...Rumori di sottofondo. Scusi, mi faccia dire una cosa. No, perché questa signora sta asserendo una cosa grave, di cui si deve assumere le responsabilità. Perché lei è venuta a dire che io non lavoro. Ma no, mi sono scusata. Ma lei si deve vergognare. È uno scherzo. Si deve vergognare. È uno scherzo. Professore, è uno scherzo. Ti vergognerei. Le chiedo scusa, mi sono data un attimo una boccata di leggerezza. Dovrebbe vergognarsi. Io mi vergogno per lei. Va bene. Io no, però ho scherzato. Allora, si inizi a vergognare. Ho scherzato. Si inizi a vergognare. Si vergogni. Lei è un ignorante di quello di cui ha parlato fino adesso. Sarà una bravista scrittura, ma una grande ignorante di Covid. Lei, le posso dire, non capisce niente. Di quelli che vanno in televisione è quella che capisce di meno. E ho sentito dire una quantità di cretinati da quando lei parla in televisione che non so come la facciano a invitare ancora. Peccato perché i suoi colleghi, a partire da Capua, Galli e Crisanti, dicono esattamente le cose che leggo io sugli studi. Lei va bene. Allora brava, brava. Vedo che lei è brava. Lei invece sta in corsia. Lei vedo che è brava. Che lei fa bene il bestiere di mezzo. No, io leggo, lady.